Fai la spesa e sali sul bus o sulla corriera. I soci accumulano punti sulla tessera, tutti i clienti ricevono sconti sul carrello. Il biglietto o l'abbonamento si comprano al supermercato. Al box informazioni di oltre 60 punti vendita Unicop Firenze, tra Prato, Pisa, Lucca, Firenze ed Empoli. Sono oltre 63 mila i biglietti e gli abbonamenti staccati in un anno solo per quanto riguarda l'azienda fiorentina di trasporto pubblico ATAF e adesso arrivano novità. Abbiamo ampliato alcuni comuni del circondario di Firenze, in questo caso qui i comuni di San Casciano, Montevarchi, Figline, Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino, anche le linee dell'extraurbano, con le aziende, l'azienda Autolinea Chianti Valdarno e l'Autolinea Mugello Valdisieve. Comprare un abbonamento conviene, comprarlo al supermercato ancora di più grazie alla promozione di Unicop Firenze in corso fino al 31 ottobre. Il meccanismo è semplice, tutti i clienti che acquistano l'abbonamento annuale di ATAF, Autolinea Mugello Valdisieve e Autolinea Chianti Valdarno ricevono un buono da spendere sulla spesa, 30 euro di sconto se l'abbonamento costa più di 340 euro, 20 euro di buono se la tariffa è più bassa di 340 euro. Per gli abbonamenti studenti invece il buono da spendere al supermercato è da 10 euro. A Impoli Prato, Pisa e Lucca per ogni abbonamento mensile di più bus, CAP, CPT e Vaibus acquistato ci sono 150 punti extra per i soci. Ovviamente è un servizio in più, è molto gradito e riusciamo nel solito momento a fare la spesa, a comprarsi l'abbonamento e quindi riusciamo a dare un servizio completo a tutti i nostri clienti e soprattutto cerchiamo di favorire il trasporto pubblico che dovrebbe in qualche modo decongestionare le nostre città e i nostri viali. La lista di tutti i punti vendita dove acquistare abbonamenti e biglietti è disponibile sul sito internet www.coopfirenze.it e il Chianti ha una novità in più che si chiama Pegaso. Su San Casciano prossimamente saremo in sperimentazione con il Pegaso che è il modo per poter fare trasporto pubblico integrato quindi autobus più treno o autobus più tranvia in modo da rendere completamente accessibile a tutti i clienti la possibilità di avere un trasporto pubblico per tutta la Toscana.